A cura matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Siamo tornati su Prototype 2, signori! E diamoci giù pesante con AVEX MERSERSNATION Allora, signori, veramente mi fa tanto piacere il supporto che mi state dando Però io, adesso, questo che c'ho io qua Non è che mi piace tantissimo, eh? C'è, eh, sto personaggio che mi dovrebbe dare tipo la copertura Non è che mi piaccia tantissimo Andiamoci nella missione, questa qua, S Che dovrebbe essere il continuo dell'altra Ma magari anche no Chi lo sa, non si sa Ragazzi, dai un po', riusciamo ad arrivare a 15.000 like Eh, quella col colo è bella! È diretta a una sana per nascondersi Sa di cosa parlo quando dico sana? Un buco nel terreno pieno di cose che vogliono uccidermi Non vedo l'ora Potrebbe prenderla un po' seriamente Più passa il tempo, maggiore la probabilità che Merser ci scopre Beh, merda, non voglio certo farlo arrabbiare Facci vedere il culo e andiamo dritti nella buca Ragazzi, ho visto che vi siete morti dalle risate Eh, quando ho messo il fermo immagini dell'altra volta Ma se stavo meglio avrei fatto anche un editing migliore Se c'è... se stavo meglio e se c'avevo voglia più che altro, eh? Il seguimento senza senso continua Sì, non ti preoccupare Ci vedremo molto presto, Roland E poi mi ammazzerai? Certo Assolutamente Venga, incazzato nero oggi Nel senso, no? Già è nero per i cazzi suoi Pensa quando è incazzato Non si vede proprio più Allora, quella là è la Tana Ok Non mi stupisce che tu gli piaccia tanto Sei testardo come lui Rimango confuso delle volte su questo gioco Rimango davvero, davvero confuso Ok, ha cacciato un hitra Ha cacciato un hitra Ma non credo che sia un problema enorme Almeno che che non sia un hitra Perdo questo Roland E ci guadagno un mostro Ok Allora Intanto devo Allora, vieni qua Vieni qua Vieni qua Intanto mi prendo lui Perché c'aveva il DNA L'avete visto, no? Ok, tanto qua C'è sta pure Aspettate perché Non ci capisco un cazzo Oh, adesso sì Adesso sì, regà Mamma mia Bene, bene, militari Andate, andate Che c'è un hitra incredibile Vai con i lanciarazzi Vai Ragazzi, non so se ve ne siete accorti Ma vi sto dando una mano Brutte teste Siete delle teste Di cazzo Che porco due Guarda che roba, regà Mamma mia Io vi giuro Sì Sì, ho capito Ho capito Ho capito Ma sentite Ragazzi Adesso io Non è cattiveria Ma quello che Quante cose volete Che io faccia In questo videogioco Eh Ok Mi tocca Mi tocca prenderli, regà Assolutamente perché sto E prendilo Sto senza vita Quindi per forza Ok Quest'altro L'abbiamo preso Se io faccio così E faccio così Ok Guarda sto stronzo Mamma mia Ragazzi Gli sto facendo un male Assurdo Ci sto capiccazzo Però mi piace così Allora Prendo quest'auto E gliela lancio addosso Prendo quest'altra auto E gliela lancio addosso Ci dovremmo essere quasi Se sti Stronzi La finiscono Mamma mia Oh Vado dentro con bazooka Sti cazzi Dai Entra 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 No Mi ha lasciato Mi ha lasciato il bazooka Ma allora sei stronzo Dai Vuole andarci un pochino più armato E mi togli il bazooka Il lanciarazzi Ok Là c'è gente Tranquilla Che tra virgolette Tranquilla È molto Ok Si è cambiato È diventato Uuuuh Ok Devo distruggere Il juggernaut Che sarebbe quello Perché se lo distruggo Aspettate C'ho un'idea Idea incredibile Idea incredibile Uuuuh L'ho fatto L'ho fatto Regà L'ho fatto L'ho fatto Assolutamente Ok Dai Dai Ragazzi Non è facile Aia Aia Ve l'ho detto Che non è facile Ok Y Dai 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 No Mortacci Sto tizio Ci vuole proprio Romper culo Quello Proprio Ok Devo cercare Di Di recuperare Un po' di vita Ragazzi Già che ci sto Visto che c'è tutta Sta gente qua Ah tra l'altro Tra l'altro Ovviamente mi ha dato Un buon consiglio Mettoci Succhia Cioè Assorbi più gente che puoi Che te li si risblocca Ovviamente Il super potere E una volta che ci hai Sbloccato quello Dai Portarci sua E Certo Riuscire a farlo Oserei dire che È una gran gran cosa Dai Ok Perché non so Quanto male gli faccio Al Jager Jager Ti senti bene Ma gli ha detto Ciccione C'è chi potrebbe Offendersi Oh Vedete che Sei un bastardo Perché io potevo Vieni qua Oh regà È qualcosa di tremendo Non ci si capisce Niente Vai Ok Ti vorrei mangiare Se fosse possibile Aia Aia Quanto male Mi devi fare Ok Ce lo siamo mangiato Questo è buono Perché ci dà del DNA E ovviamente Ci dobbiamo Mangiare lui Oh ragazzi È fortissimo Ragazzi È fortissimo Dai 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 Porca miseria Fatto Me sa Forse Ma non è vero Non è vero Perché è tipo Non ci sto capendo Niente Ok Ho preso Regà Mangiato Mangiato Tra l'altro Mi avete anche consigliato Di alzare un pochino Il La luminosità Ma il gioco è fatto così Cioè Anch'io vedo poco Un cacchio Ok Ci abbiamo il martello Dovrò fare attenzione Potrebbero ferire qualcuno Urca puttana Premi X Il martello Di membro X Attacco Ok Mamma mia Oh ragazzi Fortissimo Ma Madonna Urca puttana Ma quanto è forte Bellissimo ragazzi Mamma mia Quanto è forte Tra l'altro Io lo sto provando Ma non so se Devo magari Ucciderle 20 Tutti insieme Ma sinceramente Non me ne fotte Una Minchia E non ho trovato Uh Questo me sa che lo butto giù Col martello Scommettiamo Mamma mia Mamma mia Ragazzi Uuuuh Ne vogliamo parlare Mamma mia Mamma mia Bellissimo Vai Aia Vai Bellissimo Faccio così Così almeno facciamo Pure un po' prima Che dite Dai su Uuuuh Raga Raga Che cosa stiamo a parlare A fare Porca puttana No Eccolo Eccolo Dove sei Merda Merda Vieni qua Non sarà affatto facile Vieni qua Merdaccia Che non sei altro Pure lui è forte Vai così Vai così Ok Non è Non è facile Non è facile Ragazzi Madonna Che figata Uh Via Bastardo Che non sei altro Eh Le piace Uh Ah Vedi che posso Anche selezionare I poteri Giusto Vai Uh Mamma mia BAM Sulla schiena Paro paro Vai Dai Mi piace Mi piace Mi piace da morire Raga Ti faccio fuori tutti Non me ne frega mica niente Dai Lui purello Non ci staccavi niente Aia Questo mi ha fatto male Però Vieni qui No No Esatto Lui si Bravo Sparategli Bravo Bravo Sparategli Aia però Anch'io sto Rimanendo Uh Senza Aspettate Vai Aia Aia Sto cercando Di riprendermi Un po' di vita Ma Ok Mi sembra anche Che si riprende Abbastanza Con questa Dai Però c'è Stanno Stimita Che come la riprendo Ma la ritorgono Aia Invece Parlamo De lui Pan Culo Olè Parato Ok Fatto Una combo Stupenda Ragazzi Lui non può fare niente Contro noi Non può fare niente Vai Parato Vai Così Fatto Mamma mia Fatto Che dice Nessun problema Nessuno Signor Mercer Signore Le mie rotte Di trasporto Aggirano La sicurezza Della Blay La Dunque Tutte le scorte Di White Stanno Attualmente Lasciando La zona Verde Sì L'operazione Potrà Iniziare Appena Avremo L'ordine Ok Chi ci ha capito qualcosa Mi raccomando Scriva qua sotto Perché io non ci ho capito Veramente niente Scudo migliorato Che è un'ottima cosa Anche perché non la utilizzo Quindi Bellissimo Però se mi imparassi A usarlo meglio Sarebbe tutta Una cosa bella Allora Uscire dalle allerte Per fortuna Ci risulta Abbastanza facile A noi Quindi Oh Vedi Gente che S'ammazza Nel frattempo Noi Tranquillissimi Uh C'è il super soldato Mortacci So Io me l'ho amato Ok Signori Se non ci arriva Una telefonata Direi che l'appuntamento Di oggi Vuò fino a qua Oh ok Livello evoluzione 8 Quindi Mentre nei cespugli Noi ci evoluzioniamo Ok Movimento Salute Rigenerazione Mutaforma Che sarebbe Il sospetto Non me ne fregami Proprio niente Non me ne Distruttore O capobranco Vengono ottenuti Attacchi nemici Questo potrebbe essere I veicoli corazzati Vengono insuruti Voglio fare questa Voglio fare questa Perché mi sembra Che la mossa finale Non si interrompe No no Se con carta C'ha ragione No no C'ha ragione Sono d'accordo Non ti permette Proprio perché Guarda che veramente Signori Io direi che l'appuntamento Di oggi può finire qua Se vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Io forse continuo a registrare Questo gioco Pollicione in su Bella Ciao ciao